Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma due chilometri di coda per transito di trasporti eccezionali tra Valdarno e Arezzo. In Fibili per lavori un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. A Firenze fino al 1 settembre lavori di ampliamento di via Panciatichi con divieti di transito sulla direttrice composta dalla stessa via Panciatichi e via dello Stecuto, chiusura anche per via della Ghiaccia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!